Io non sono l'avvocato difensore della Lombardia, però oggi il capo della protezione civile ha dato la notizia che oggi la Lombardia ha vaccinato più di tutti. La macchina sicuramente si era un po' ingrippata, sono corsi a ripari, hanno cambiato uomini, hanno cambiato metodo, però c'è da dire due cose velocissime. Il primo per esempio sulle categorie, sull'età, cioè in Lombardia ci sono 10 milioni di abitanti quasi, quindi ci sono più insegnanti, più medici, più personale infermeristico, più forze di polizia che avevano diritto di essere vaccinati per primi. E c'è un numero maggiore di anziani rispetto alle altre regioni, quindi il ritardo in parte è dovuto a dei problemi che ci sono stati, ma in parte perché parliamo della regione più popolata e con la più alta densità di popolazione che c'è in Italia. Però, cartello... È un po' ingiusto fare dei paragoni così. Allora, ora torniamo dalla professoressa Capo.